Praticamente erano dei semicerchi, su ogni pancale che noi possiamo vedere c'erano 4 arnie e 4 alveari. Loro hanno aperto il pancale, hanno sfilato la cassa e l'hanno portata via. 31 arnie, ognuna contenente 50.000 api ed infine 500 kg di miele. E' questo l'insolito bottino del colpo messo a segno ai danni di un allevamento di mercatale nel comune di Montevarchi. I ladri sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì nell'apiario della Gold Ace, un'azienda di Foiano della Chiana ma con un allevamento in Baldarno. E' rimasto 17 alveari, io conto con questi 17 alveari, con la buona volontà, con l'ausilio del tempo, se ci vorrà bene, di riuscire in un anno, un anno e mezzo, di riuscire a riportarlo in queste condizioni. Il danno si aggira attorno ai 20.000 euro. Mediamente erano una diecina di chili ogni melare, erano quasi pronti per portarle a casa. Miele e cera? Miele e cera. Un colpo studiato nei minimi dettagli e ben programmato. Prima cosa, maneggiare un alveare con del miele sopra, si parla di un oggetto che pesa intorno 60, 70, 50 kg. Non hanno le maniglie perché sono con i pancali, perciò è ancora più complicata l'operazione. Non c'erano le porticine per chiuderle, hanno chiuso con degli stracci, perciò loro è gente che comunque sa di cosa stiamo parlando, sa come si maneggia un alveare. Sull'episodio indagano i carabinieri. Faccio un appello a tutti i cittadini, a tutti coloro, che in orari non consueti, magari si trovano per la strada e vedono la movimentazione degli alveari. Sarebbe bene farle presente all'autorità di competenza.